Musica Facciamo ad arrivare fin lì? Uno di loro disse di costruire una torre con la punta nel cielo Siamo già in cima, passami il mattone che metto la malta Musica Passami un bicchiere d'acqua di setante Finito il lavoro si accorsero che la torre toccava il cielo e stavano raggiungendo gli angeli Ioi, va a finire che qualcuno di notte ci inciampa Musica Questo non è mica un posto per gli uomini Allora che si fa? Chi l'avrebbe mai detto che i creatori così piccoli sarebbero stati capaci di costruire una cosa del genere? E così gli angeli e Dio discussero per la costruzione della torre Bisogna distruggere la torre e uccidere gli uomini Calma, calma angeli, ci sono modi più delicati Ci rimetteremo a confonderli E così Dio alzò il braccio e confuse gli uomini E iniziarono a parlare lingue diverse E fu così che gli uomini parlarono lingue diverse E gli uomini iniziarono a parlarsi e insultarsi in tutte le lingue Dicuie, dziękuję bardzo Grazie Grazie